Sono Emanuele De Nobili, medico chirurgo, mi occupo di medicina potenziativa e ho il piacere e l'onore di dirigere il Longevity Medical Center Head & Health di Merano. Perché dico questo? Perché chiaramente da me i clienti, i pazienti generalmente alloggiano per 7 giorni, 15 giorni, per cui ho sempre avuto la necessità di avere dei test, degli esami che mi permettessero fin da subito di poter inquadrare la persona che ho davanti. Sapete che fare esami del sangue piuttosto che esami del microbioma, test genetici, ci vogliono giorni o addirittura settimane. Poi ad anni fa ho scoperto che esiste sul mercato un device S-Drive che permette con il semplice prelievo di 4-5 capelli, che poi se ne analizza il bulbo, che rappresenta una sorta di antenna, nel giorno di 15 minuti ottengo un risultato, che non è una diagnosi, ma mi permette assieme alla visa, alla raccolta dei dati, di inquadrare quel paziente e di propogli in quella settimana che sono le terapie più idonee. E occupandomi anche di terapia endovenosa, nelle S-Drive compare a livello della pagina 3, che è quella che rappresenta quelle che possono essere le carenze micronutrizionali, se ci sono carenze di alcuni aminoacidi piuttosto che minerali, vitamine, antiossidanti, che io posso mettere nel mio cocktail e dal giorno dopo subito inizia la terapia. Chiaramente la terapia endovena la farà una o due sessioni mentre è in clinica, poi proseguirà con la terapia per bocca, per os, come normale. E questo chiaramente mi ha dato un grosso vantaggio, vedo che è molto apprezzato. Io ho iniziato nell'aprile dell'anno scorso e ho fatto vedere che nel giro di 8 mesi ho quasi 700 test attivi, per cui questo mi ha permesso anche di farmi una certa esperienza. Non solo mi aiuta a livello micronutrizionale, ma l'S-Drive dà anche delle informazioni sulle alterazioni di alcuni sistemi, per cui il sistema cardiovascolare, l'immunitario, oppure mi fa vedere se ci sono problemi a livello di sonno, di sistema ormonale, sistema adrenergico e che mi permette chiaramente di fare un inquadramento preciso e poi di intraprendere la giusta terapia. Per cui da quando ho S-Drive chiaramente è uno strumento che poi utilizzo in abbinamento anche ad altre cose, ma è fondamentale nella mia pratica clinica.